Una canzone davvero bella, ricca di contenuti che fa poi ben sperare nel futuro della musica italiana perché come sappiamo l'attenzione giovani rappresenta il futuro e qui si continua, stanno entrando gli ospiti Ecco, vi faccio sentire un po' di clamore che arriva qui davanti al teatro Ariston E' perfetto, dicevo per quanto riguarda le previsioni non so se avete già letto le notizie ANSA oppure vi posso dare io un'anticipazione Sì, dici tutto Antonella, sei lì per questo Perché è per il premio della critica che è stato vinto da Simone Cristicchi E' già stato vinto da Simone Cristicchi? Sì, sì, già hanno dato oggi, io ero in sala stampa e ci hanno dato già questa notizia ci hanno fatto lo spoglio delle schede e è risultato Simone Cristicchi vincitore per il premio della critica perciò andrà a lui il premio della critica Si dice qualcosa invece per quanto riguarda il vincitore proprio assoluto del festival? Alcuni dicono che sia proprio lui, non so se è compatibile vincere ufficialmente il primo premio ma anche il premio della critica ma è anche possibile in questa edizione che sta stravolgendo totalmente le regole Io ho qui vicino a me, ne approfitterei per passarvelo Massimo Morini, direttore d'orchestra di Stefano Centomo che ieri si è guadagnato un bel secondo posto Ve lo passo subito Sì, fai due domande Pronto? Pronto, buonasera Buonasera, sono Massimo Morini, sono direttore d'orchestra di Stefano Centomo quello che è arrivato secondo ieri sera nella categoria giovani Sì, sì, certamente alle spalle proprio di Fabrizio Moro Alle spalle è una parola decisamente un po' grossa in quanto abbiamo saputo dal televoto che Fabrizio ha preso 5 volte i punti che ha preso Stefano per cui un distacco enorme, un vincitore assoluto e tutti gli altri sono a grande distanza Insomma, finalmente un giovane, forse anche grazie a questa formula di decretare il vincitore dei giovani anche una sera prima diciamo, la sera prima, forse con una sera d'anticipo rispetto ai campioni così hanno voluto anche mettere in salto più questi giovani che spesso venivano relegati all'ultima ora e poi magari spesso passavano inosservati Esatto, esatto, è una cosa molto intelligente e soprattutto la gara è stata preservata, non è stata inquinata sono stati messi gli ospiti nazionali nella serata, così avevano un'importanza determinante però non distoglievano dalla gara mettendo altri bigo questa è una formula vincente di Vaudo che ha fatto sì che l'attenzione pubblica generale e della giuria demoscopica e del televoto fosse rivolta solamente a questi 8 giovani infatti più o meno nessuno sta discutendo sui risultati siamo tutti d'accordo Per questo è una cosa molto bella perché penso che sia la prima volta che succeda nella storia del festival Assolutamente Ci sono state aspre polemiche sempre sono state battaglie intestine diciamo proprio rivalità incredibili anche se magari delle mascherate magari da finta amicizia spesso, come succede spesso in tante manifestazioni tipo omistidale questo qua, quest'anno mi sembra che veramente lei mi sta dicendo con grande onestà questo è il fatto che sia proprio una cosa sia stata una cosa molto molto regolare e lineare abbastanza soprattutto anche dal punto di vista che questi 8 giovani si sono uniti molto nell'arco di questi giorni e non assolutamente già tra di loro avevano determinato che Fabrizio avrebbe vinto per cui non è stata niente una sorpresa anche la critica ho dato prima della critica a Moro per cui quando una cosa è ormai andata in questo modo la gara è finita lui aveva vinto in partenza e si è creata un'altra piccola gara fra gli altri 13 che fortunatamente è la canzone Bivio che io ho arrangiato in diretto per Stefano e l'ha spuntata su questa Champions League perfetto io speriamo di vedere anche presto magari ospiti in radio Stefano a presentare magari il suo disco insomma la sua versione sicuramente so che farà una promozione molto fitta per cui niente di più probabile è una persona un ragazzo molto giovane 19 anni con le idee molto chiare e soprattutto è l'autore di se stesso scrive le canzoni si scrive i testi e dice a noi già i principi con cui vuole che gliele si arrangi per cui è una persona quella di De Chiara è determinata una gran voce bravo suonare pianoforte insomma i numeri ce li ha tutti questo senso comincia l'ancione che va da tutto buon fine anche con l'uscita del suo nuovo album ad aprile comunque l'Italia ha bisogno di talenti di questo tipo non è stata mai avara di talenti speriamo che questo festival in qualche modo riscopra questo grande tesoro appunto talentuoso appunto dell'Italia me lo auguro me lo auguro ripasso la linea Antonella e tutti gli ascoltatori di Radio Roma di nuovo grazie a lei arrivederci eccomi tornata ecco Antonella eccoci mi hai passato il tuo ti prego però di fare tu stessa le interviste se eventualmente hai qualche intervista da fare sì esatto esatto ma io tra l'altro ecco da donna volevo dire che finora insomma vorrei anche qualche bella presenza femminile tra le vincitrici speriamo sul podio questa sera perché come avete visto per quanto riguarda i giovani soltanto presenze maschile anche se devo dire tutti tutti davvero bravi c'era una grande spinta che arrivava dai giovani e tra l'altro c'era anche una mia amica Romina Falconi che insomma ha cantato benissimo Romina Falconi che tra l'altro sarà nostra ospite proprio in diretta fra circa mezz'ora benissimo salutatemela tanto e ancora tanti in bocca al lupo perché comunque è risultata davvero degna Antonella ci fai sentire qualche impressione al caldo di qualcuno che ti sta intorno qualcuno del pubblico allora un attimo che vi passo delle bambine scatenate che stanno continuando a invocare fai tu stessa le domande mi raccomando eccolo qua allora ragazze come andiamo chi pensate vincerà questa sera? Michelle Huntiger l'hai già vinto l'hai già vinto perché non è in gara secondo voi? Gigi D'Alessio Gigi D'Alessio vedo che sono molto preparati mi stanno dicendo tutti gli ospiti un attimo Antonella perché a proposito di ospiti io questo pomeriggio ero una delle poche elette a partecipare alle prove e come sapete ci sarà John Stone questa sera tra i super ospiti internazionali a parte che è stata simpaticissima perché si è presentata con un vestitino canse a rete larga e tacchi a stillo però per stare decisamente i tacchi a stillo stonano un po' anche perché non fanno salire il groove necessario per muoversi e per dar vita a quella voce black che solo lei riesce a tirar fuori allora si è tolta le scarpe e ha cominciato a cantare soltanto così scalza una cosa che aveva fatto anche Elisa se vi ricordate nel 2001 quando con luce poi ha stravinto e a parte questo è stata anche carina nei confronti di chi era lì seduto tra gli addetti ai lavori nelle prime file e ha detto che cosa volete che io canti a parte il successo insomma del suo ultimo album e tutti gli hanno detto respect e lei questa sera andrà ad interpretare proprio questa canzone perciò confrontandosi con un mostro sagro come Arita Franklin perfetto allora sentiamo questi ragazzi intanto che cosa mi dicono secondo voi le previsioni di questa sera allora io spero tanto che vinca Daniele Silvestri perché la canzone è simpaticissima veramente piacerà a tutti la canzone davvero di Daniele Silvestri piace a tutti va ad uniformare tutto il pubblico giovanile ma anche di quelli un po' più grandi guarda noi tutti gli anni abbiamo sempre dato la nostra previsione per quanto riguarda il festival pensiamo sempre prima di riuscire tramite i nostri critici a sapere il vincitore abbiamo sempre indovinato praticamente da quando ho otto anni che faccio questo speciale in radio e praticamente quest'anno non l'abbiamo voluto fare però tutti quanti danno per favorito Daniele Silvestri questa qua è una come dire è una previsione ormai plebiscitaria perciò non è assolutamente controllabile e pensare che possa essere stata controllata noi ci associamo a questa cosa e tra l'altro l'altra sera ha fatto un bellissimo duetto mi sembra con Zarrillo ed Episcopo se non sbaglio sì ma anche questa sera non mancheranno le sorprese i duetti e poi tra l'altro anche la giuria di qualità dove c'è Massimo Ghini dove c'è Alessandro Dalatri perciò molto cinema e secondo me andrà a essere premiata anche proprio l'atmosfera che crea la canzone perciò non soltanto l'interpretazione vocale ma anche proprio se può essere una canzone adatta magari ad una colonna sonora di un film per esempio devo dire che magari il brano di Daniele Silvestri è proprio quello che si dà già l'idea dell'estate l'idea magari di giovani che vanno in vacanza che si divertono e euforia questo può essere magari il tema ricorrente di questo festival di questa edizione cioè diciamo l'unione tra il cinema e la musica diciamo un'integrazione tra le varie arti che vanno per la maggiore qui in arti dello spettacolo vanno per la maggiore e speriamo che ci sia la contaminazione tra musica e cinema e che soprattutto che questa industria possa andare avanti come merita forse veramente questo forse l'ingrediente sono gli ingredienti giusti appunto per una ricetta vincente per quanto riguarda appunto il rilancio appunto di quello che è il talento innato appunto nel nostro tessuto sociale dello spettacolo appunto italiano perciò il talento innato l'Italia non è messa da varie artisti basta girare i piccoli teatri e ne troviamo quanti ne volete però spesso l'Italia ci propina personaggi di reality personaggi magari che non hanno neanche valore artistico speriamo che si cambi canale si cambi proprio si giri pagina si volti pagina su questa situazione e si cominci a dare più risalto a mettere a fuoco più quella che è la cultura appunto la cultura dello spettacolo vera e non l'apparenza ecco vi sento meno che qui gli urli a volte sovrastano tutte le vostre voci va bene Antonella io ti ringrazio tantissimo per questo collegamento adesso ti godi il festival poi tanto noi abbiamo i collegamenti all'interno del teatro Aristono con Maria Pia Carlucci io ti saluto ti ringrazio tantissimo noi ci lasciamo adesso ci concediamo da te e facciamo ascoltare al nostro pubblico proprio la canzone che ha vinto ieri sera la sezione giovani appunto Fabrizio Moro con Pensa grazie di nuovo Antonella e buona permanenza a Sanremo grazie Antonello ciao Antonella di nuovo grazie grazie Antonella Salvucci la linea passa alla regia appunto a Max Giurastante buonasera che tra l'altro questa sera abbiamo iniziato un po' di corsa non è neanche salutato appunto colonna portante ormai di questa trasmissione grazie a tutti